Il sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli, non ha firmato la petizione popolare indetta dal Movimento in difesa del centro Abruzzo sul reinserimento del capologo Peligno tra i poli d'attrazione e la costituzione della quinta macroarea regionale Valle Peligni a Valle del Sagittario, ma annuncia per la prossima settimana un incontro con il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, l'assessore regionale alle aree interne Andrea Gerosolimo, i dirigenti regionali e i rappresentanti del Movimento in difesa del centro Abruzzo. La comunicazione è arrivata ieri sera nella trasmissione di Onda TV, chiedetelo al sindaco. Io non ho firmato perché non sono passato lì, ma ho chiesto al presidente della regione un incontro che probabilmente si terrà agli inizi della settimana prossima con il presidente della regione Abruzzo, con l'assessore Gerosolimo, con i dirigenti dei settori che sono stati interessati dall'invio di quei dati, quindi faccio riferimento all'assessorato sviluppo economico, all'assessorato della sanità. Ho richiesto fortemente, quindi si è attivato anche su questa cosa l'assessore regionale, e quindi a questo incontro sarà presente il presidente della regione, l'assessore, i dirigenti. L'incontro in questione era stato chiesto dall'assessore Gerosolimo, che si sta occupando del caso, e aveva ribadito che il declassamento di Sulmona non porterebbe un'ulteriore perdita di servizi nei settori di sanità, trasporti e istruzione. Per il sindaco Ranalli l'obiettivo fissato già nell'incontro romano con la dottoressa Locatelli è quello di analizzare i dati che hanno escluso Sulmona dai poli d'attrazione. Il declassamento infatti è stato eseguito poiché a Sulmona non è stato riconosciuto un ospedale di primo livello. Si era preso un impegno, e su questo so che la regione si sta lavorando, sono stati già diversi incontri a cui non ho partecipato, come mi è stato riferito da Gerosolimo che sta lavorando su questo aspetto, con la Locatelli per analizzare quei dati che ci hanno escluso come polo di attrazione. Sono state oltre 700 intanto le firme raccolte dal Movimento New Weekend. Si potrà aderire alla petizione popolare anche nel fine settimana, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20 nei portici di Via Denino. La raccolta firme sarà attiva anche online.